Oh, ma tu ce l'hai la cartuccia di E.T. per 2600? Ancora soffiare le cartucce stai, ma allora sei antico! Ormai le cartucce non le fabbrica più nessuno, ma da anni! Ah sì? E io continuo a comprare, cazzo me ne frega! Sei fuori, sei, sei fuori! Sì, vabbè, a parte le cartucce, ma te non potresti arrivare all'ora giusta, cazzo! Abbiamo da fare la trasmissione di nera da Swatom Radio e alle nove e mezza dobbiamo andare in onda, porca! Tu è che ho avuto una discussione con mia moglie? Ma sei un bamba, sei! Mi dice che dedico troppo tempo ad Atom Radio, e per forza mi tocca pensare tutto a me! Uè, animale, ma che cazzo dici? Allora io che penso sempre alla musica Seed Wave? Sì, sono bravi tutti a pensare, poi però bisogna anche arrivare puntuali e trasmettere, noi abbiamo le spese! Minona ha ragione, noi portiamo sempre da mangiare e da bere, tu non porti mai un cazzo, c'hai proprio le mani corte! Si dice braccia corte! Ma io c'ho le mani corte! Allora come fai a tenere il microfono? Infatti penso! Buoni che c'è il boss! Oh boss, siamo pronti per andare in onda? Attacchiamo alle nove e mezza nello studio uno! Sì bravi, sì bravi nello studio uno! Venite qua un attimo che chiariamo subito dei punti! Patti chiari, amicizia lunga! Come finite voglio vedere in terra tutto pulito! Jack arrotolati e portaceni risvuotati! E non deve più volare una mosca! Niente stronzate, capito? Uè, tranqui eh! Tranqu'un cazzo! Quanti anni hai tu? Ma cosa c'entra, scusa? C'entra sì! Tu c'eri all'isola di White? No ma... Tu c'eri a Woodstock? Neanche ma... Io sì, alla silenzio e andare a lavorare! Lunedì 3 giugno alle 21.30 la redazione di una trasmissione di Nerda aspetta i suoi ascoltatori per l'ultima puntata della stagione. Diamo insieme il benvenuto all'estate! Ci trovate per l'ultima volta collegandovi a www.atomradio.it. Cercate di essere puntuali! Lavoriamo per voi! Grazie a tutti!